Il centro di urno ha sicuramente una finalità di tipo occupazionale. La cooperativa associata a Agriabilità ha come obiettivo quello di includere a livello lavorativo ragazzi con svantaggio e con disabilità. Quindi ci sono queste due finalità comunque si associate. All'orto di Paolo l'inclusione passa attraverso l'agricoltura e la manualità. Nelle campagne di Ascoli Piceno sorge questa realtà solidale, dedicata a persone con disturbi dello spettro autistico. Qui i ragazzi e adulti prendono parte a vari laboratori, sperimentano lavori manuali, si dedicano all'agricoltura, confezionano e vendono prodotti. Si chiama Orto di Paolo perché Paolo è un ragazzo che frequenta il centro e la famiglia ha destinato quindi questa struttura a Paolo e ad altri ragazzi come lui che hanno queste esigenze particolari. L'obiettivo di questo centro di urno è ovviamente quello di offrire un intervento educativo e riabilitativo garantendo quanto più un'occupazione stabile e costante a questi ragazzi, oltre che sollievo chiaramente alle famiglie. Coinvolgiamo i ragazzi nella vendemmia presso i terreni di cantine velenosi e produciamo un vino al logo comune, così come andiamo a raccogliere la frutta presso un'altra azienda agricola, la Golosa, e da lì andiamo a realizzare una confettura al logo comune. Oltre questo produciamo anche nostri prodotti, ulolio, ceci, ortaggi freschi e via dicendo, oltre ad avere a gestire un allevamento di galline ovaiole. Abbiamo avviato da qualche mese infatti un progetto sperimentale che ci permette di far pernottare i ragazzi qui al centro di urno e quindi di permanere qui per l'intero fine settimana. L'Orto di Paolo fa parte della più ampia cooperativa Pagefa, nata nel 1985 dai genitori con figli con disabilità. La cooperativa gestisce servizi sociali a 360 gradi e propone iniziative sul territorio. Gestisce servizi su tutto il territorio, dalla comunità montana fino ad arrivare alla zona marina, poi abbiamo qualche servizio anche in Abruzzo e verso il Maceratese. Attività extrascolastica, dopo scuola, quindi ovviamente anche dal punto di vista educativo, quindi non lavoriamo soltanto con la disabilità ma lavoriamo con tante situazioni. Qui all'Orto di Paolo i ragazzi che seguiamo sono 12, sono 10 uomini e 2 donne e in generale gli utenti sono tanti, arriviamo a circa un migliaio di utenti se andiamo a inserire dentro anche gli asiri nido e tutte queste strutture dove gli utenti sono tanti.